L'esclusione del porto di Gioia Tauro dall'accordo Italia-Cina per la cosiddetta nuova via della seta è stato un errore gravissimo del governo italiano che colpisce pesantemente non solo la Calabria ma l'intero mezzogiorno. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa tenuta a Catanzaro il parlamentare europeo Aldo Patriciello di Forza Italia. Gioia Tauro ha aggiunto era uno dei due porti italiani ipotizzati dall'Europa, l'altro doveva essere scelto tra Trieste e Genova e invece i due porti della Nord entrano nel progetto e lo scalo calabrese che aveva le caratteristiche giuste per supportare lo sviluppo dei traffici commerciali tra Italia e Cina nel Mediterraneo ne resta fuori. Ma non soltanto per la Calabria, per l'intero sud è una grande sconvitta perché valorizzare il porto di Gioia Tauro per questo grande progetto la via della seta che in qualche modo per i prossimi 30 anni sarà il volano di sviluppo del paese e dell'Europa è per noi una grande perdita. Io sono un meridionalista convinto per cui ho sempre fatto le battaglie per il sud e rifaremo ancora ulteriormente, faremo sentire la nostra voce, il nostro peso perché credo che su questo tema bisogna accendere l'attenzione, accendere anche le telecamere perché il sud, si parla di sud, si parla di occupazione, si parla di lavoro ma nella sostanza non ci sono azioni concrete, vere e in qualche modo che possano dare una spinta reale alla ripresa economica perché le conseguenze sono quelle di cui ho fatto cenno, cioè l'esclusione di Gioia Tauro. Dicevo poco fa con una battuta ma non è che dopo il voto europeo l'impianto di Forza Italia in Calabria che esprime parlamentari, esprime consiglieri regionali, esprime tantissimi amministratori a livello di enti locali improvvisamente sparisce, continua e quella base rimane ed è uno zoccolo da cui ripartire. Altra cosa può essere un voto di opinione che sicuramente si preannuncia massiccio a favore della Lega rispetto al quale tutti quanti ci interrogheremo, ragioneremo ma chiedo che da questo punto di vista da partito di centrodestra, moderato di centrodestra, qual è Forza Italia, noi non auguriamo la sconfitta degli altri partiti alleati del centrodestra, più i partiti di centrodestra si rafforzano più si rafforza complessivamente il centrodestra. L'impegno c'è da parte del partito su tutto il territorio regionale, siamo sicuri di fare un buon risultato perché ancora in Calabria e Forza Italia hanno discareta forza elettorale che siamo sicuri di poterla confermare e mantenere anche in questa tornata elettorale. Integrazione, programmazione, turismo e lavoro, sfruttare le risorse e creare opportunità per il territorio. Questi temi è il centro del convegno Il futuro per la Calabria organizzato dall'associazione Bigov a Cropani. Vi hanno partecipato alcuni sindaci del comprensorio, alcuni consiglieri regionali, deputati calabresi ed europarlamentari. Serve visione, coraggio, passione e conoscenza per valorizzare appieno il territorio calabrese, cosa finora non avvenuta. Occorre contrastare in primis il fenomeno dello spopolamento che riguarda soprattutto le aree interne calabresi. Non basta intercettare le risorse comunitarie, hanno riferito alcuni intervenuti, se non si riesce a trovare una visione comune ed un modello, una strategia di sviluppo. In Calabria sono stati persi anni e decenni, ora non c'è più tempo da perdere. Metterete a confronto sindaci, istituzioni, parlamentari, europarlamentari per cercare di svoltare finalmente, sono 20 anni se non di più e si fanno questi tavoli e purtroppo siamo ancora all'anno quasi zero in Calabria. Sì esatto, il nostro evento si chiama appunto futuro per la Calabria perché vogliamo dare un messaggio positivo e lo facciamo anche qui a Cropani perché se siamo qui è perché molti pensano che questo degrado, questa incompetenza, questo modo di amministrare le cose pubbliche sia normalità. Cioè ormai non ci scandalizziamo più, per noi non è normalità. Infatti siamo qui perché desideriamo degli amministratori capaci, competenti, amministratori che sappiano cosa vuol dire la cosa pubblica, che sappiano cosa vuol dire l'artigianato, che sappiano cosa vuol dire la storia, che sappiano cosa vuol dire l'identità, che sappiano cosa vuol dire il turismo, cose che non esistono più. Siamo qui a Cropani perché per molti questo paese è stato sciolto per mafia e come vedete in Locandina non c'è ancora un rappresentante politico di Cropani. Quindi l'obiettivo che vogliamo dare noi è un messaggio positivo, dobbiamo noi rimboccarci le maniche e pensare al futuro. Ci sono, come dicevo prima, tante professionalità sul nostro territorio che spesso e volentieri però rimangono incagliate nei meandri degli uffici, nei meandri dei corridori del palazzo della Regione Calabria. Rincorrere i finanziamenti europei è una cosa molto importante, però bisogna sostenere l'impresa perché da lì riparte l'occupazione e l'occupazione toglie i ragazzi dalla strada e li toglie e li sottrae alla criminalità. A proposito di evidenti carenze infrastrutturali, siamo in una zona altamente penalizzata e condizionata da vie di comunicazioni inesistenti o comunque poco efficienti. Il nuovo corso dei 5 Stelle, insomma il Governo, vorrà mettere mano a questa problematica a partire dalla 106? Sì, sicuramente tutto ciò che riguarda la mobilità e i trasporti sono stati già attenzionati tant'è che il Ministro Toninelli è già stato presente qui in Calabria diverse volte, quindi è pienamente al corrente della 106, è stato firmato peraltro ed è entrato in vigore il decreto sblocca cantieri proprio per sbloccare una serie di cantieri che erano rimasti chiusi e far ripartire quindi lavori per garantire l'ammodernamento anche di diversi tratti e quindi delle infrastrutture anche della Calabria e dunque sicuramente le infrastrutture e la mobilità calabrese sono una delle priorità che vanno risolte considerato che anche questo penalizza non soltanto il turismo ma anche e soprattutto l'economia e lo sviluppo del nostro territorio. La lista di Klaus Davi ha raggiunto il numero di 40 sottoscrizioni della sua lista denominata San Luca Klaus Davi Sindaco, lo afferma lo stesso Davi sottolineando che è stato raggiunto il numero necessario per poter presentare la lista alle prossime comunali. Tra i candidati della lista figura anche Carlo Tansi, ex dirigente della protezione civile della regione Calabria, attualmente ricercatore alla CNR. Essere arrivati dopo anni a presentare due liste per le elezioni comunali a San Luca è un segnale importante che segna un decisivo cambio di rotta e mentalità. I cittadini ci hanno messo la firma e la faccia per liberare questa terra da un'etichetta che non le deve più appartenere. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Marco Siclari intervenendo alla presentazione delle liste con la partecipazione dei candidati a sindaco Klaus Davi e Bruno Bartolo. Davi e Bartolo, detto in un comunicato, hanno ringraziato pubblicamente il senatore durante l'incontro di questa mattina in municipio per aver accolto un appello ignorato da tutti gli altri parlamentari calabresi dando speranza a una terra che chiede solo riscatto. Un nuovo gioco riservato ai disabili in carrozzina è stato inaugurato al Parco della Biodiversità dai presidenti della provincia Sergio Abramo e del Parco Michele Traversa. Questa mattina alla presenza dei soci dell'associazione Città del Vento, donatori dello strumento ludico, è stata applaudita un'iniziativa ricca di sensibilità ed umanità. In un parco che risplende, hanno affermato Abramo e Traversa, non può non trovare spazio il desiderio di regalare un po' di gioia a chi è meno fortunato. Questo è lo spirito in cui si colloca l'idea dell'associazione presieduta da Alessandro Astorino, che ringraziamo infinitamente per aver voluto installare un gioco destinato alle persone con disabilità che va ad aggiungersi a quelli già esistenti. Intanto, a partire da sabato mattina, riaprirà il Parco dei Folletti. Sono terminate infatti le operazioni di messa in sicurezza eseguite dagli operai del parco e dai detenuti del carcere di Siano, resesi necessarie dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi. Per me questo è un momento di attesa in tutti i sensi, per il Comune in generale e per me in particolare. Intanto gli uffici non hanno mai smesso di lavorare. Quello che abbiamo fatto intendere è che non è un problema che interessa solamente Reggio Calabria, quindi non è un problema che si ferma esclusivamente a livello locale, ma è un problema che interessa diversi comuni. Il messaggio che abbiamo voluto mandare è che è ora che vengano intessute delle dinamiche e delle politiche che riguardino non solo l'aspetto locale, ma a livello nazionale. Il fallimento, perché di questo si tratterebbe, di un comune che sia Reggio Calabria che comunque è una città metropolitana, ma di qualsiasi comune sarebbe il fallimento del mezzogiorno, il fallimento dei comuni sarebbe il fallimento dell'Italia anche in Europa. È anche ovvio che il debito è un debito strutturale, questo che vuol dire che è un debito che si accumula. Non si accusano assolutamente le amministrazioni precedenti, però è un debito che purtroppo si eredita e quindi è ovvio che il disavanzo va recuperato. Quello che però bisogna anche mettere in risalto è che il comune di Reggio Calabria non ha mai avuto stanziati dei fondi perduti, dei fondi perduti, degli stanziamenti a fondo perduto, cosa che invece è successo per gli altri comuni. Il comune di Reggio Calabria ha cercato di recuperare il disavanzo durante tutti questi anni, sia nel decennio in cui era vigente il pieno di riequilibrio, sia anche quando ha avuto la possibilità di spalmare questo debito in 30 anni. Ora c'è l'ipotesi su 30 anni? Allora, cosa è successo? Che il pieno di riequilibrio è tornato a rivivere dopo la pronuncia della Corte dei Conti che ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale è la riviviscenza del pieno decennale, che è quello approvato e vigente da noi. All'epoca era vigente il pieno decennale, cioè quella normativa. Successivamente nel 2017 la legge di bilancio ha previsto una modifica, cioè che i pieni di riequilibrio possano essere strutturati in un arco temporale dai 4 a 20 anni. Ed è ovvio che tutti i comuni che hanno soffritto di questa possibilità, come ad esempio Napoli, Ribolenza e Messina stessa, lo hanno fatto in 20 anni. Quindi non è ipotizzabile che un comune ritorni ad applicare una norma che attualmente non è più in vigore perché altri comuni hanno avuto la possibilità di ripienare il disavanzo in 20 anni. Quindi questa è la prima conquista, possiamo dirlo. La seconda è che avremo un'altra attesa fino al 31 luglio per l'approvazione del bilancio previsionale. Un detenuto del carcere di Rostano, Francesco Argenteri, ha vinto il premio nazionale sulle ali della libertà, giunto alla seconda edizione con la tesi di laurea alla sfera pubblica Il carcere come progetto sociale. La cerimonia di consegna del riconoscimento avrà luogo il 30 aprile nel carcere di Rostano, alla presenza dell'arcivescovo di Rostano Cariati, Monsignor Giuseppe Satreano, della direttrice della casa circondariale Maria Luisa Mendicino, oltre che di Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale, ente promotore del premio. L'iniziativa ha ottenuto dalla Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia di rappresentanza. I carabinieri della stazione di San Calogero, insieme a personale del 14esimo Battaglione Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente un disoccupato originario di Mileto, di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di un servizio di controllo, i militari hanno fermato l'uomo sulla statale 18, mentre era alla guida di un Audi A3. Insospettiti dall'atteggiamento del 53enne, i carabinieri hanno deciso di perquisire l'auto ed hanno trovato oltre 10 grammi di cocaina già confezionata e suddivisa in 5 dosi, pronta per essere venduta, circa 3.600 euro in contanti. L'uomo è stato così dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. Ritorno a scuola amaro al liceo classico Tommaso Campanella. I gnoti lade si sarebbero introdotti all'interno dell'istituto, fino a ieri chiuso per le festività pasquali e per il ponte della festa della liberazione, e avrebbero sottratto alcune somme di denaro dopo aver forzato alcuni distributori di alimenti e bevande. Ladri che si sarebbero introdotti anche nei locali amministrativi del liceo, a quanto pare però senza alcun esito. Sull'episodio sta indagando la polizia di Stato, presso la cui centrale operativa, prima dell'orario di ingresso a scuola, è giunta una segnalazione. Gli agenti hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto e non escluso che il furto, piuttosto che la notte scorsa, possa essere stato messo a segno nei giorni scorsi. I ladri sarebbero entrati in azione, approfittando proprio del periodo nel quale, come detto, la scuola è rimasta chiusa per le festività. Al vaglio degli agenti ci sono le immagini anche dei giorni scorsi, immortalate dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto e quello di oggi non sarebbe un fatto isolato. Già nei mesi scorsi il liceo sarebbe stato fatto oggetto di analoghi furti. Episodi simili inoltre si sarebbero registrati anche in altri istituti scolastici di formazione cittadini. Episodi tutti al vaglio degli inquirenti e non escluso che a mettere a segno il colpo a questo punto possa essere stato un ladro o una banda di ladri seriali. Un trentenne è stato arrestato da personale del commissariato di Lamezia Terme della Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere messa dalla GIP su richiesta della procura alla mitina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed altro. L'uomo tra l'altro alla vista di una volante è fuggito all'alt effettuando manovre pericolose percorrendo a velocità sostenuta ed anche contromano alcune vie di Lamezia e costringendo la volante ad un inseguimento nel corso del quale per evitare la collisione è stata costretta ad uscire di strada andando ad impattare con un'auto ferma. Gli agenti sono rimasti feriti e l'auto di servizio danneggiata. Conta la rovescia per lo spettacolo di chiusura della stagione teatrale al Politeama Foglietti di Catanzaro con l'opera lirica Madame Butterfly di Giacomo Puccini diretta da Mauro Avogadro è in programma per il prossimo 4 maggio. L'opera terza produzione della Fondazione Politeama giunge al termine di un rinnovato successo dell'intero cartellone proposto e che ha soddisfatto proprio tutti i gusti. Abbiamo portato avanti due opere liriche quest'anno, una grazie alla famiglia Colosimo che è stato un grande successo con la regia di Luciano Cannito, è stato un Don Giovanni fantastico e stiamo lavorando sperando di avere lo stesso successo con la Madame Butterfly con una regia importante, una firma importante, quella di Mauro Avogadro. Abbiamo un cast di grandissimo livello, dall'Amarilli a Fabio Amarmigliato e siamo convinti di poter fare bene. Il Teatro Politeama ha ospitato e coprodotto tre opere liriche, l'hotello, il Don Giovanni in apertura e la chiusura con la Madame Butterfly. Anche questo credo che sia un grosso risultato, ce lo prendiamo io e Gianvito, ci prendiamo anche qualche soddisfazione e anche qualche merito perché non è poco, credeteci, non è poco programmare tre opere liriche con le risorse economiche che sono sempre limitate. Naturalmente è un allestimento che io eredito da un allestimento che era una produzione di Catanzaro dieci anni fa, quindi lo farò un po' a modo mio immaginando qualcosa che oltre ad avere un aspetto tradizionale che va conservato in queste opere così storiche, così incorreggibili se Dio vuole, però magari ci sarà un taglio più cinematografico, ci sarà qualcosa che sembrerà tante volte meno un'opera e più un film. E noi andremo a visionare e seguiremo con molta e particolare attenzione lo spettacolo di chiusura di questa stagione che è stata davvero un successo. Gianvito, 4 maggio, Politeama, Foglietti di Catanzaro. Affrettatevi gli ultimi biglietti, il 4 maggio alle ore 21 la Butterfly di Mauro Avogadro. No, di Puccini. Altrimenti dovrete aspettare molto tempo ancora. In Serie B si gioca la 35esima giornata, il Crotone sarà impegnato sabato pomeriggio alle ore 15 al Penzo di Venezia per uno scontro salvezza importantissimo, cruciale per il futuro degli squali, un autentico spareggio per la permanenza in Serie B. Qualche dubbio per Stroppa in vista del match in Veneto, in difesa ci sono da verificare le condizioni fisiche di Curado e di Spolli. Il tecnico deciderà all'ultimo momento queste le sue dichiarazioni pre-gara. Per quanto riguarda la partita di domani siamo pronti, prontissimi, sotto tutti gli aspetti. La squadra è carica, si è allenata benissimo e quindi sono molto fiducioso. Sicuramente faremo una grandissima prestazione. Partita difficile, come poi del resto tutte e sempre nel campionato, a maggior ragione domani essendo uno scontro diretto e mancando soltanto quattro partite, tre dopo questa, i punti secondo me potrebbero pesare molto. Abbiamo il vantaggio di avere un punto di distacco, questo non significa che non andiamo per poter portare a casa la posta piena, però di sicuro ci vorrà un atteggiamento, ci vorrà maggiormente la concentrazione e la cura dei dettagli e quindi la cura dei dettagli mi riferisco a pale native, a qualsiasi episodio che può far male o al contrario può far bene. Non rischierò spolli perché si trascina il solito problemino e essendoci poi tre partite ravvicinate in una settimana lo portiamo, lo porteremo in panchina, se ce ne sarà bisogno sarà degli undici ma così in partenza non credo di utilizzarlo. Il mio riferimento è solamente questo, è chiaro che quando uso terminologie che molti miei colleghi usano spesso e quindi mi sono permesso di utilizzare questa frase, questa parola perché effettivamente eravamo ultimi, penultimi e pensare di aver fatto un girone di ritorno così alla grande ed essere ancora qua a dover lottare per non retrocedere, sicuramente mi piacerebbe di portare a casa questo obiettivo. Queste è tutte le gare della 35esima giornata in Serie B, nel pomeriggio di sabato alle ore 15 l'esordio di Delio Rossi sulla panchina del Palermo impegnato a Livorno, poi ancora Pescara-Verona, Salernitana-Carpi, Venezia-Crotone e Spezia-Perugia. Domenica alle ore 15 Cittadella-Ascoli e Cremonese-Foggia mentre chiuderà il quadro alle ore 21 il big match per la vetta Lecce-Brescia. Nelle Catanzaro che giocherà domenica a Siracusa rientra Alessandro Favalli, dopo l'infortunio ha recuperato l'esterno sinistro che molto probabilmente sarà in campo al De Simone. Non possiamo sbagliare più nulla nella gara di Siracusa nella prossima gara interna contro la Viterbesi, ha detto Favalli al microfono di RTC in una conferenza stampa pre-gara. Inutile ripensare ai punti persi, meglio guardare avanti, sfruttare le tre gare che rimangono e andare ai play-off da terzi in classifica per giocarci tutto per la promozione in Serie B. No, secondo me ora non c'è più da guardare dietro i punti che abbiamo perso, ma secondo me è concentrarsi sulle partite che vengono, affrontare queste ultime tre partite di campionato per prepararsi al meglio per affrontare comunque i play-off e dire alla nostra ai play-off insomma perché abbiamo una squadra forte e può dire la sua e arrivare fino in fondo insomma. Certo, sicuramente non c'è da sbagliare la partita di domenica che viene e soprattutto quella contro la Viterbesi, il ritorno. Però secondo me ora è giusto pensare partita dopo partita, come sempre. Credo che comunque non sarà una partita semplice perché come hai detto che giocano in casa davanti ai propri tifosi e sicuramente vogliono far vedere quello che sono capaci di fare, il loro gioco. Quindi poi giocando magari contro una squadra che lotta per il terzo posto vogliono far vedere quello che sono capaci di fare. E domenica il campo clou per quanto riguarda le squadre calabresi sarà senz'altro il Luigi Razza di Vibo Valencia dove arriva la regina di Roberto Cevoli. Amaranto a caccia dei tre punti che li porterebbero dritti nei play-off. Un vero e proprio esodo da Reggio Calabria verso Vibo Valencia sono stati già polverizzati a tempo di record infatti i 730 biglietti riservati ai tifosi Amaranto e Luigi Razza. Per la Vibonese invece l'obiettivo è chiudere con dignità un campionato senz'altro onorevole che porterà alla salvezza tranquilla i rosso-blu di Nevi Orlandi. Penultimo impegno stagionale per il Rende che giocherà a Viterbo. La squadra bianco-rossa cerca di chiudere onorevolmente un campionato senz'altro molto soddisfacente nel girone di andata e allo stesso tempo deludente in quello di ritorno. La società intanto pensa già ai progetti futuri. E queste sono tutte le gare della penultima giornata in Serie C. Casertana-Potenza, Cavese-Catania, Rieti-Monopoli, Siracusa-Catanzaro, Trapani-Paganese, Vibonese-Regina, Viterbe-Serende e Virtus-Francavilla-Bisceglie. Tutti in campo contemporaneamente alle ore 15. Grazie a tutti.